Autobiografia significa raccontare la propria storia di vita. La parola ha un'origine antica, ha un'origine greca. Autos vuol dire se stessi, bios vuol dire vita, graffin vuol dire scrivere. C'è autobiografia quando raccontiamo di noi, quando parliamo della nostra vicenda, quando i ricordi che abbiamo ancora della nostra infanzia, della nostra giovinezza o anche ricordi più recenti urgono, premono dentro di noi per diventare un libro, per diventare un testo, per diventare uno scritto. Tutto ciò che è autobiografico quindi rinvia alla nostra persona, alla nostra singolarità. Non esistono delle autobiografie di gruppo, delle autobiografie collettive. L'autobiografia è soltanto individuale. Ma ciò che è importante scoprire è che le autobiografie possono nascere, come è accaduto nei secoli, direttamente dal nostro desiderio di parlare di noi, al passato, talvolta anche al presente, quando scriviamo un diario. ma le autobiografie possono essere anche aiutate da chi ci può consigliare rispetto a quanto di meglio, importante, noi possiamo scrivere di noi, della nostra storia. Quindi c'è un'autobiografia diciamo spontanea che emerge come un desiderio dalla nostra esistenza. Sono state sempre tantissime le persone, uomini, donne che hanno affidato alle pagine questi loro ricordi, ma ci sono autobiografie che oggi svolgono anche un'importante funzione di carattere educativo oppure terapeutico e in questo caso ci sono degli educatori, ci sono dei terapeuti, ci sono delle persone che ti aiutano a scrivere la tua storia. Quali sono gli effetti e perché scriviamo? Scriviamo innanzitutto perché vogliamo lasciare parole di noi, una testimonianza, un ricordo, ma scriviamo anche perché è dentro la scrittura che siamo invogliati a scoprire dei lati anche nascosti della nostra vicenda umana. Scopriamo che scrivendo la memoria si riattiva, che mettiamo in scacco l'oblio, scriviamo per accorgerci quindi che siamo ancora vivi, che possiamo ricordare, ma possiamo anche costruire strada facendo nel presente dei nuovi ricordi da conservare. Ecco, la protagonista, come dicevo, è la scrittura, la scrittura che ci permette di esplorare il nostro mondo interno, ma è una scrittura anche che ha sempre una destinazione di tipo sociale. La scrittura nacque anticamente con questo scopo, con questo fine, comunicare, far sapere, far conoscere e anche noi quindi rispetto alla nostra storia, anche la più apparentemente comune, apparentemente monotona, ci accorgiamo, scrivendo, che in realtà questa storia ha sempre qualcosa di specifico, di eccezionale, di importante. E allora diventa anche, quanto mai necessario, avere rispetto alle pagine che abbiamo scritto un buon rapporto con la volontà di rileggere quanto abbiamo scritto. Insomma, in conclusione direi che la scrittura dell'autobiografia serve a tante cose. In primo luogo a lasciare una traccia di noi, un'impronta della nostra storia, lasciare ricordi che possono essere trasmessi ad altri. Questo è il primo scopo. Il secondo scopo dell'autobiografia è anche provare un benessere attraverso la scrittura, quando la scrittura ci aiuta a superare i momenti anche di disagio, di sofferenza, quando perdiamo qualcuno. Una scrittura quindi che ci aiuta anche a superare talvolta i momenti di depressione. E allora noi diciamo che l'autobiografia è una forma di cura. Questo è il secondo aspetto. Il terzo aspetto noi possiamo ritrovarlo negli stimoli ad arricchire ancora di sapere la nostra mente, la nostra vita. E quindi diciamo che l'autobiografia rimette in moto il nostro pensiero, la nostra voglia di guardarci intorno, la nostra voglia di occuparci anche delle storie altrui. Ecco questi sono i tre aspetti che credo costituiscano l'ABC di un'attività autobiografica.